Le uve però sono sanissime, a quanto sembra la stagione non ha portato con sé anche malattie che sono tipiche comunque sia dei vitigni che sono presenti ad Arezzo. Quindi uno stato di salute ottimale, possiamo dirlo? Sì, e tra l'altro dobbiamo dire che quest'anno è stato possibile anche ridurre il numero di trattamenti proprio perché non c'era il rischio di avere infezioni fungine nei nostri vigneti. Per cui uve più sane e anche con minore apporto di fattaci. Che vino sarà quello della Vendemmia 2012? Beh, è un po' presto perché saranno i prossimi giorni a definire la qualità delle uve. Probabilmente avremo dei vini con gradazione alcolica elevata. Sarà importante avere un abbassamento termico per figurare il quadro anche aromatico perché le alte temperature rischiano di ridurre la quantità di aromi presenti nelle uve e poi nei vini. È un settore che ci dà particolari soddisfazioni. Anche i dati di questi ultimi anni di crisi economica mi evidenziano come questo settore, soprattutto nell'export verso gli altri paesi, tenga e addirittura abbia migliorato le posizioni, nonostante appunto le difficoltà. Questo sicuramente è il frutto, diciamo, di un lavoro attento e pubblico dei produttori, ma anche noi come istrazione provinciale, carri di commercio, abbiamo sostenuto questo processo e lo sosteniamo anche con un'attenzione alla qualità delle nostre uve in vigna. Questo progetto delle curve di maturazione dà degli utili informazioni ai nostri viticoltori per raccogliere il loro prodotto nel momento migliore. E con questo auguriamo anche a tutti veramente una buona vendegna, un fatto che è veramente importante per tutto il nostro territorio. Il dato ce lo dà proprio la Francia, un mercato molto esigente, molto particolare ed è per l'appunto il mercato dove il vino arettino registra l'incremento maggiore in termini di esportazione. Quindi anche queste curve di maturazione che è il percorso iniziale per una strada di qualità si rilevano importantissime. A questa attività che noi facciamo e che partirà dal mese, che parte ora dal mese di agosto, si aggiungerà poi un'attività altrettanto importante, sempre nel senso della qualità, che saranno le commissioni di degustazione. In Camera di Commercio abbiamo questi esperti degustatori che esageranno il vino sempre in termini di qualità organolettica e quindi di qualità prima dell'immissione in consumo. Quindi crediamo di aver avviato un circolo virtuoso che parte d'oggi e si sviluppa poi nel corso dei prossimi due mesi che dovrebbe garantire al nostro vino una qualità notevole e quindi anche una spendibilità migliore su tanti mercati di tradizioni.